Mi chiamo Bruno Sebastianelli e sono il presidente della cooperativa La Terra e il Cielo. Qui siamo a Piticchio di Arcevia della regione Marche e noi pratichiamo qui all'interno agricoltura biologica. La nostra è una cooperativa nata nel 1980 quando eravamo un po' come le musche bianche. Provenivamo dalla lotta politica degli anni 70, delusi da questo, ci siamo ritirati in campagna. Abbiamo avuto quest'idea di fare agricoltura biologica, siamo partiti grazie al Comune di Senigallia che ci ha concesso dei terreni in affitto perché non avevamo né esperienza né soldi. Oggi rappresentiamo 110 aziende, soprattutto piccole aziende, perché noi vogliamo la piccola azienda perché è quella che sta scomparendo dal panorama agricolo italiano. E più tutelano e presidiano meglio il territorio e fanno un prodotto biologico migliore delle grandi aziende. Tutta la filiera è tracciata, raccoglie il prodotto dal socio, lo conserva, lo trasforma e lo commercializza. Il prodotto principale è la pasta, ma così legumi, cereali, un po' tutti e farine, vino, olio, un po' tutto quanto insomma. Il vero integrale è quello macinato a pietra, il vero biologico integrale è quello macinato a pietra. Noi abbiamo questo mulino che da ormai 30 anni collaboriamo insieme. Il nostro è un prodotto integrale perché viene tolta solo la crusca più grossolana e naturalmente poi viene trasformato in pasta e commercializzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.